Superare un ostacolo con facilità spesso ci regala grandi emozioni, ma non sempre quello che incontriamo è possibile superarlo. Quanti di voi col tempo non riescono più a entrare con facilità nella vasca da bagno? Bene, oggi questo problema scompare definitivamente, perché Easy Life, azienda leader nella fabbricazione e installazione di vasche ad apertura laterale e leader nella realizzazione di ausili per diversamente abili, porta in casa vostra le più innovative soluzioni per dire basta a tutti i momenti imbarazzanti che dovete sopportare quando avete bisogno di qualcuno che vi aiuti a entrare nella vostra vasca da bagno, per godervi un meritato bagno caldo. Oggi con le vasche ad apertura laterale Easy Life la vita diventa veramente più facile per tutti, per gli anziani, per le persone che hanno problemi motori, problemi alle articolazioni, per i diversamente abili che finalmente potranno godersi, come tutti, un bagno in piena tranquillità e con la più assoluta privacy. Oggi quelle che vi presentiamo e che vedete sono solo alcune delle nostre vasche, la gamma di modelli a vostra disposizione è così completa che ci permette di accontentare tutte le vostre esigenze, sia per quanto riguarda dimensione design, sia per le prestazioni, perché tutte le nostre vasche, attenzione, le potete avere anche con idromassaggio incorporato. Ma ci pensate, passare dalla scomoda vecchia vasca ad una nuova Easy Life che oltre a farvi entrare ad uscire con estrema facilità, per di più vi offre anche l'idromassaggio. Immaginatevi nel bagno rilassati a godervi il massaggio dell'acqua, sarà come entrare in un centro benessere tutte le volte che farete il bagno, quindi con le vasche Easy Life non solo avete la comodità di fare il bagno indipendenti senza l'aiuto di nessuno, ma potete veramente godervi il massimo del relax. Vasche che sono un prodotto artigianale italiano e lo dico con orgoglio, non arrivano da chissà dove. Sono il frutto di una lunga ricerca tecnologica e scientifica che ha valutato le richieste e le esigenze di tutte quelle persone in difficoltà in un momento intimo come quello del bagno. I nostri tecnici e successivamente i nostri artigiani sono riusciti a darci questo, un prodotto straordinario che vi regala una vita senza barriere, senza ostacoli. Guardate questo bagno, ha le dimensioni di 1,70 m per 2. Avevamo un'enorme difficoltà perché abbiamo in casa la nonna di 92 anni e pesante, pesa quasi in l'ospitale e stenta a camminare. Era un problema veramente grande, la doccia non ci stava, altre soluzioni non c'erano. Ho sentito il nominale di Easy Life che produce vasche per disabili. Subito ho pensato questo è il sistema giusto. Ecco qua la vasca e la nonna adesso può essere autonoma, entrare e uscire da sola o sola che è accompagnata ma può star dentro tranquilla. E allora non aspettate e telefonate subito per prenotare la visita di un nostro consulente che senza impegno da parte vostra verrà direttamente a casa vostra per illustrarvi tutta la gamma delle vasche Easy Life. Chiamate con fiducia, i nostri incaricati in tutta Italia vi consiglieranno la migliore soluzione per le vostre esigenze e scoprirete quanto costa poco cambiare vita, cambiare abitudini perché oggi pagate la vostra nuova vasca con piccole e comode rate mensili. Con Easy Life grandi vantaggi piccole rate. Easy Life, nuova vasca, nuova vita. Ma c'è di più! Se lo desiderate siamo in grado di fornirvi un servizio installazione accurata e professionale in 24 ore soltanto. I nostri installatori lavorano in modo pulito e ordinato. Avrete la vostra nuova vasca d'apertura laterale in poco tempo e con la massima pulizia. Cosa c'è di meglio? Se fino ad oggi avete avuto problemi ad entrare ed uscire dalla vostra vasca, chiamate subito! Da tempo pensavo di fare questo regalo alla mia mamma. Mi sono accorta che sempre più spesso dovevo essere presente per aiutare a fare il bagno perché non riuscivo più a entrare nella vasca da sola. Allora mi sono rivolta all'Easy Life. È venuto un tecnico con cui ho scelto la vasca. Poi sono venuti gli installatori e devo proprio fare i complimenti perché sono stati veloci e puliti. Ma la cosa più importante è che la mamma è contentissima perché si può fare nuovamente il bagno da sola senza l'aiuto di nessuno. Easy Life. Nuova vasca, nuova vita. Non aspettate un minuto di più. Riacquisterete indipendenza, privacy e tranquillità. Avrete in casa un'autentica isola di benessere. La tecnologia e lo studio accurato Easy Life, azienda leader nella fabbricazione e installazione di vasche d'apertura laterale e leader nella realizzazione di ausili per diversamente abili, hanno contribuito alla creazione di una serie di prodotti che garantissero, oltre le normali funzioni, la possibilità di eliminare definitivamente il problema più grande. L'ostacolo più insormontabile, lo scavalcamento della vasca. E lo sapete bene voi che siete persone che hanno problemi di articolazione, problemi motori. Se siete diversamente abili, oggi con le vasche Easy Life tutto questo è svanito, è scomparso perché Easy Life vi fa entrare con assoluta comodità e facilità all'interno della vasca. Una volta entrati troverete subito una sensazione di benessere, perché tutte le nostre vasche sono state progettate per accogliere ergonomicamente il vostro corpo. Le vasche Easy Life sono il risultato di progetti e studi finalizzati al vostro benessere. Il sistema di chiusura ermetico e sigillante delle nostre vasche vi dà la sicurezza di non avere perdite e infiltrazioni d'acqua. Questo fa sì che la porta a perfetta tenuta stagna impedisca all'acqua di uscire e vi garantisce di effettuare il vostro bagno in totale autonomia, in totale tranquillità. Le sedute e gli appoggi ergonomici sono stati progettati per garantirvi un comfort assoluto quando seduti mentre fate il bagno siete liberi e sicuri nei vostri movimenti. Ed è questo il vantaggio di una vasca Easy Life. Il piacere di far tutto da soli, di non dover più chiedere a nessuno una mano per entrare e per uscire dalla vasca. Per chi non ha questi problemi, questo potrebbe non essere di così grande importanza, ma se avete in caso una persona anziana o una persona che ha perso la perfetta efficienza motoria, magari per un incidente, pensateci, pensate a quanto potrebbe essere più bella la loro vita se in un momento così intimo e delicato come quello del bagno avessero la possibilità di farlo da soli. A voi piacerebbe chiedere sempre aiuto a qualcuno? No! E allora pensate che questo potrebbe essere uno straordinario legalo che potete fare magari alle persone a cui volete bene. È un consiglio, regalate questa isola del relax, anche perché oggi potete avere la vostra vasca Easy Life con idromassaggio. Quindi non solo una vasca che vi ridà indipendenza, ma una vasca che aggiunge anche l'utilità di un vero relax, grazie all'idromassaggio. Abbiamo cambiato la nostra vasca da bagno con la vasca Easy Life. Devo dire che siamo stati contentissimi, oltretutto anche degli installatori che sono stati bravi, veloci. La vasca è una meraviglia perché non abbiamo più problemi a scavalcare. E allora non aspettate e telefonate subito per prenotare la visita di un nostro consulente, che senza impegno verrà direttamente a casa vostra per illustrarvi tutta la gamma delle vasche Easy Life. Chiamate con fiducia, i nostri incaricati in tutta Italia vi consiglieranno la migliore soluzione per le vostre esigenze. E scoprirete quanto costa poco cambiare vita, cambiare abitudini, perché oggi pagate la vostra nuova vasca con piccole e comode rate mensili. Con Easy Life grandi vantaggi, piccole rate. Ma c'è di più. Se lo desiderate, siamo in grado di fornirvi un servizio installazione accurato e professionale in 24 ore soltanto. I nostri installatori lavorano in modo pulito e ordinato. Avrete la vostra nuova vasca ad apertura laterale in poco tempo e con la massima pulizia. Cosa c'è di meglio? Se fino ad oggi avete avuto problemi ad entrare ed uscire dalla vostra vasca, chiamate subito! Easy Life, un prodotto italiano. E qui siamo tutti orgogliosi di dirlo, perché è il prodotto di studi e tecnologia italiana, ma soprattutto è un prodotto dell'artigianato italiano d'eccellenza, così famoso in tutto il mondo. Proporre un prodotto artigianale oggi significa consegnare nelle case dei clienti l'insieme di capacità professionali di alto livello. Easy Life ha scelto la migliore qualità artigianale italiana per far sì che ogni vasca che viene installata a casa vostra sia perfetta esteticamente e tecnicamente. Una vasca destinata a durare nel tempo che vi darà sicurezza e tranquillità. Per questo oggi vi diciamo fidatevi e chiamate subito. Con Easy Life sono di nuovo indipendente, è una sensazione impagabile. Adesso con la mia vasca Easy Life faccio tutto da solo, non chiedo più aiuto a nessuno. Oggi Easy Life con la sua nuova linea di modelli è la migliore soluzione per tutti quelli che hanno problemi ad entrare ed uscire dalla vasca. Chiamate subito! Oggi la pagate con piccole comode rate mensili perché con Easy Life grandi vantaggi e piccole rate. Per voi o a chi volete bene, regalatevi o regalate un bagno fatto di comfort e relax. È veramente rilassante e soprattutto nessuno mi deve aiutare. Faccio tutto da solo. Finalmente faccio il bagno da sola senza l'aiuto di nessuno. Easy Life, le nuove vasche ad apertura laterale. Guardate che belle, ma soprattutto utili per tutti quelli che hanno difficoltà ad entrare ed uscire dalla vasca da bagno. Per tutti quelli che, avendo questi problemi, non si sentono sicuri in una doccia. Ecco la soluzione. Una vasca d'apertura laterale Easy Life che oggi potete richiedere anche con l'idromassaggio. Telefonate subito allora e prenotate la visita di un nostro incaricato che, senza impegno da parte vostra, verrà direttamente a casa per illustrarvi le qualità delle vasche Easy Life e per scegliere con voi il modello più adatto alle vostre esigenze. Prenderà tutte le misure necessarie per una perfetta installazione, ottimizzando spazio e strutture esistenti. Questo per garantirvi, se lo richiedete, un servizio di installazione accurata e professionale in sole 24 ore. Chiamate con fiducia! Oggi con le vasche d'apertura laterale Easy Life la vita diventa veramente più facile per tutti. Per gli anziani, per le persone che hanno problemi motori, problemi alle articolazioni, per i diversamente abili che finalmente potranno godersi, come tutti, un bagno in piena tranquillità e con la più assoluta privacy. Oggi quelle che vi presentiamo e che vedete sono solo alcune delle nostre vasche. La gamma di modelli a vostra disposizione è così completa che ci permette di accontentare tutte le vostre esigenze, sia per quanto riguarda dimensione design, sia per le prestazioni, perché tutte le nostre vasche, attenzione, le potete avere anche con idromassaggio incorporato. Ma ci pensate? Passare dalla scomoda vecchia vasca ad una nuova Easy Life, che oltre a farvi entrare ad uscire con estrema facilità, per di più vi offre anche l'idromassaggio. Immaginatevi nel bagno rilassati a godervi il massaggio dell'acqua. Sarà come entrare in un centro benessere tutte le volte che farete il bagno. Quindi, con le vasche Easy Life non solo avete la comodità di fare il bagno indipendenti senza l'aiuto di nessuno, ma potete veramente godervi il massimo del relax. Vasche che sono un prodotto artigianale italiano, e lo dico con orgoglio, non arrivano da chissà dove. Sono il frutto di una lunga ricerca tecnologica e scientifica che ha valutato le richieste e le esigenze di tutte quelle persone in difficoltà in un momento intimo come quello del bagno. I nostri tecnici e successivamente i nostri artigiani sono riusciti a darci questo, un prodotto straordinario che vi regala una vita senza barriere, senza ostacoli. Era un problema veramente grande, la doccia non ci stava, altre soluzioni non c'erano. Ho sentito il nominale di Easy Life che produce vasche per disabili. Subito ho pensato questo è il sistema giusto. Ecco qua la vasca e la nonna adesso può essere autonoma, entrare e uscire da sola o sola, anche accompagnata, ma può star dentro tranquilla. E allora non aspettate e telefonate subito per prenotare la visita di un nostro consulente che senza impegno da parte vostra verrà direttamente a casa vostra per illustrarvi tutta la gamma delle vasche Easy Life. Chiamate con fiducia, i nostri incaricati in tutta Italia vi consiglieranno la migliore soluzione per le vostre esigenze e scoprirete quanto costa poco cambiare vita, cambiare abitudini perché oggi pagate la vostra nuova vasca con piccole e comode rate mensili. Con Easy Life grandi vantaggi piccole rate. In più ricordatevi che potete avere le nuove vasche Easy Life con idromassaggio, comodi, beati e rilassati. Cosa volete di più? Chiamate subito adesso. Con Easy Life finalmente potrete entrare e uscire dalla vostra vasca senza l'aiuto di nessuno. Abbiamo scelto la vasca Easy Life, siamo estremamente contente. La mamma può fare tranquillamente il bagno da sola ed io sono più tranquilla. Prima per farmi il bagno avevo per forza bisogno di aiuto. Adesso grazie a questa vasca della Easy Life riesco a fare tutto da solo. Ve lo assicuro. Con la vasca Easy Life la vita cambia veramente. Chiamate adesso per avere informazioni sulle nostre eccezionali condizioni d'acquisto. Easy Life, le vasche per una nuova vita senza ostacoli. Easy Life, nuova vasca, nuova vita. Superare un ostacolo con facilità spesso ci regala grandi emozioni. Ma non sempre quello che incontriamo è possibile superarlo. Quanti di voi col tempo non riescono più a entrare con facilità nella vasca da bagno? Bene, oggi questo problema scompare definitivamente. Perché Easy Life, azienda leader nella fabbricazione e installazione di vasche ad apertura laterale e leader nella realizzazione di ausili per diversamente abili porta in casa vostra le più innovative soluzioni per dire basta a tutti i momenti imbarazzanti che dovete sopportare quando avete bisogno di qualcuno che vi aiuti a entrare nella vostra vasca da bagno per godervi un meritato bagno caldo. Oggi con le vasche ad apertura laterale Easy Life la vita diventa veramente più facile per tutti. Per gli anziani, per le persone che hanno problemi motori, problemi alle articolazioni, per i diversamente abili che finalmente potranno godersi, come tutti, un bagno in piena tranquillità e con la più assoluta privacy. Oggi quelle che vi presentiamo e che vedete sono solo alcune delle nostre vasche. La gamma di modelli a vostra disposizione è così completa che ci permette di accontentare tutte le vostre esigenze sia per quanto riguarda dimensione design sia per le prestazioni perché tutte le nostre vasche, attenzione, le potete avere anche con idromassaggio incorporato. Ma ci pensate? Passare dalla scomoda vecchia vasca ad una nuova Easy Life che oltre a farvi entrare ad uscire con estrema facilità. Per di più vi offre anche l'idromassaggio. Immaginatevi nel bagno rilassati a godervi il massaggio dell'acqua. Sarà come entrare in un centro benessere tutte le volte che farete il bagno. Quindi con le vasche Easy Life non solo avete la comodità di fare il bagno indipendenti senza l'aiuto di nessuno, ma potete veramente godervi il massimo del relax. Vasche che sono un prodotto artigianale italiano e lo dico con orgoglio, non arrivano da chissà dove. Sono il frutto di una lunga ricerca tecnologica e scientifica che ha valutato le richieste e le esigenze di tutte quelle persone in difficoltà in un momento intimo come quello del bagno. I nostri tecnici e successivamente i nostri artigiani sono riusciti a darci questo, un prodotto straordinario che vi regala una vita senza barriere, senza ostacoli. Guardate questo bagno, ha le dimensioni di un metro e settanta per due. Avevamo un'enorme difficoltà perché abbiamo in casa la nonna di 92 anni e pesante, pesa quasi in quintale e stenta a camminare. Era un problema veramente grande, la doccia non ci stava, altre soluzioni non c'erano. Ho sentito il nominale di Easy Life che produce vasche per disabili. Subito ho pensato questo è il sistema giusto. Ecco qua la vasca e la nonna adesso può essere autonoma, entrare e uscire da sola o sola che è accompagnata ma può star dentro tranquilla. E allora non aspettate e telefonate subito per prenotare la visita di un nostro consulente che senza impegno da parte vostra verrà direttamente a casa vostra per illustrarvi tutta la gamma delle vasche Easy Life. Chiamate con fiducia, i nostri incaricati in tutta Italia vi consiglieranno la migliore soluzione per le vostre esigenze e scoprirete quanto costa poco cambiare vita, cambiare abitudini perché oggi pagate la vostra nuova vasca con piccole e comode rate mensili. Con Easy Life grandi vantaggi piccole rate. Easy Life, nuova vasca, nuova vita. Ma c'è di più. Se lo desiderate siamo in grado di fornirvi un servizio di installazione accurato e professionale in 24 ore soltanto. I nostri installatori lavorano in modo pulito e ordinato. Avrete la vostra nuova vasca d'apertura laterale in poco tempo e con la massima pulizia. Cosa c'è di meglio? Se fino ad oggi avete avuto problemi ad entrare ed uscire dalla vostra vasca, chiamate subito. Da tempo pensavo di fare questo regalo alla mia mamma. Mi sono accorta che sempre più spesso dovevo essere presente per aiutare a fare il bagno perché non riusciva più ad entrare nella vasca da sola. Allora mi sono rivolta all'Easy Life. È venuto un tecnico con cui ho scelto la vasca. Poi sono venuti gli installatori e devo proprio fare i complimenti perché sono stati veloci e puliti. Ma la cosa più importante è che la mamma è contentissima perché si può fare nuovamente il bagno da sola senza l'aiuto di nessuno. Easy Life. Nuova vasca, nuova vita. Non aspettate un minuto di più. Riacquisterete indipendenza, privacy e tranquillità. Avrete in casa un'autentica isola di benessere. La tecnologia e lo studio accurato, Easy Life, azienda leader nella fabbricazione e installazione di vasche d'apertura laterale e leader nella realizzazione di ausili per diversamente abili, hanno contribuito alla creazione di una serie di prodotti che garantissero, oltre le normali funzioni, la possibilità di eliminare definitivamente il problema più grande. L'ostacolo più insormontabile, lo scavalcamento della vasca. E lo sapete bene voi che siete persone che hanno problemi di articolazione, problemi motori. Se siete diversamente abili, oggi con le vasche Easy Life tutto questo è svanito, è scomparso perché Easy Life vi fa entrare con assoluta comodità e facilità all'interno della vasca. Una volta entrati troverete subito una sensazione di benessere, perché tutte le nostre vasche sono state progettate per accogliere ergonomicamente il vostro corpo. Le vasche Easy Life sono il risultato di progetti e studi finalizzati al vostro benessere. Il sistema di chiusura ermetico e sigillante delle nostre vasche vi dà la sicurezza di non avere perdite e infiltrazioni d'acqua. Questo fa sì che la porta perfetta tenuta stagna impedisca all'acqua di uscire e vi garantisce di effettuare il vostro bagno in totale autonomia, in totale tranquillità. Le sedute e gli appoggi ergonomici sono stati progettati per garantirvi un comfort assoluto quando seduti mentre fate il bagno siete liberi e sicuri nei vostri movimenti. Ed è questo il vantaggio di una vasca Easy Life, il piacere di far tutto da soli, di non dover più chiedere a nessuno una mano per entrare e per uscire dalla vasca. Per chi non ha questi problemi questo potrebbe non essere di così grande importanza ma se avete in caso una persona anziana o una persona che ha perso la perfetta efficienza motoria, magari per un incidente, pensateci, pensate a quanto potrebbe essere più bella la loro vita se in un momento così intimo e delicato come quello del bagno avessero la possibilità di farlo da soli. A voi piacerebbe chiedere sempre aiuto a qualcuno? No! E allora pensate che questo potrebbe essere uno straordinario regalo che potete fare magari alle persone a cui volete bene. È un consiglio, regalate questa isola del relax anche perché oggi potete avere la vostra vasca Easy Life con idromassaggio, quindi non solo una vasca che vi ridà indipendenza ma una vasca che aggiunge anche l'utilità di un vero relax grazie all'idromassaggio. Abbiamo cambiato la nostra vasca da bagno con la vasca Easy Life. Devo dire che siamo stati contentissimi, oltretutto anche degli installatori che sono stati bravi, veloci. La vasca è una meraviglia perché non abbiamo più problemi a scavalcare. E allora non aspettate e telefonate subito per prenotare la visita di un nostro consulente che senza impegno verrà direttamente a casa vostra per illustrarvi tutta la gamma delle vasche Easy Life. Chiamate con fiducia, i nostri incaricati in tutta Italia vi consiglieranno la migliore soluzione per le vostre esigenze. E scoprirete quanto costa poco cambiare vita, cambiare abitudini perché oggi pagate la vostra nuova vasca con piccole e comode rate mensili. Con Easy Life grandi vantaggi piccole rate. Ma c'è di più, se lo desiderate siamo in grado di fornirvi un servizio installazione accurato e professionale in 24 ore soltanto. I nostri installatori lavorano in modo pulito e ordinato. Avrete la vostra nuova vasca ad apertura laterale in poco tempo e con la massima pulizia. Cosa c'è di meglio? Se fino ad oggi avete avuto problemi ad entrare ed uscire dalla vostra vasca, chiamate subito! Easy Life. Nessun ostacolo a relax. Easy Life è un prodotto italiano. E qui siamo tutti orgogliosi di dirlo perché è il prodotto di studi e tecnologia italiana, ma soprattutto è un prodotto dell'artigianato italiano d'eccellenza, così famoso in tutto il mondo. Proporre un prodotto artigianale oggi significa consegnare nelle case dei clienti l'insieme di capacità professionali di alto livello. Easy Life ha scelto la migliore qualità artigianale italiana per far sì che ogni vasca che viene installata a casa vostra sia perfetta esteticamente e tecnicamente. Una vasca destinata a durare nel tempo che vi darà sicurezza e tranquillità. Per questo oggi vi diciamo fidatevi e chiamate subito! Con Easy Life sono di nuovo indipendente, è una sensazione impagabile. Adesso con la mia vasca Easy Life faccio tutto da solo, non chiedo più aiuto a nessuno. Oggi Easy Life con la sua nuova linea di modelli è la migliore soluzione per tutti quelli che hanno problemi ad entrare ed uscire dalla vasca. Chiamate subito! Oggi la pagate con piccole comode rate mensili perché con Easy Life grandi vantaggi e piccole rate. Per voi o a chi volete bene, regalatevi o regalate un bagno fatto di comfort e relax. È veramente rilassante. E soprattutto nessuno mi deve aiutare. Faccio tutto da solo. Finalmente faccio il bagno da sola senza l'aiuto di nessuno. Easy Life, le nuove vasche ad apertura laterale. Guardate che belle, ma soprattutto utili per tutti quelli che hanno difficoltà ad entrare ed uscire dalla vasca da bagno. Per tutti quelli che avendo questi problemi non si sentono sicuri in una doccia. Ecco la soluzione. Una vasca d'apertura laterale Easy Life che oggi potete richiedere anche con l'idromassaggio. Telefonate subito allora e prenotate la visita di un nostro incaricato che, senza impegno da parte vostra, verrà direttamente a casa per illustrarvi le qualità delle vasche Easy Life e per scegliere con voi il modello più adatto alle vostre esigenze. Prenderà tutte le misure necessarie per una perfetta installazione ottimizzando spazio e strutture esistenti. Questo per garantirvi, se lo richiedete, un servizio di installazione accurata e professionale in sole 24 ore. Chiamate con fiducia. Oggi con le vasche d'apertura laterale Easy Life la vita diventa veramente più facile per tutti. Per gli anziani, per le persone che hanno problemi motori, problemi alle articolazioni, per i diversamente abili che finalmente potranno godersi, come tutti, un bagno in piena tranquillità e con la più assoluta privacy. Oggi quelle che vi presentiamo e che vedete sono solo alcune delle nostre vasche. La gamma di modelli a vostra disposizione è così completa che ci permette di accontentare tutte le vostre esigenze, sia per quanto riguarda dimensione design, sia per le prestazioni, perché tutte le nostre vasche, attenzione, le potete avere anche con idromassaggio incorporato. Ma ci pensate? Passare dalla scomoda vecchia vasca ad una nuova Easy Life, che oltre a farvi entrare e uscire con estrema facilità, per di più vi offre anche l'idromassaggio. Immaginatevi nel bagno rilassati a godervi il massaggio dell'acqua. Sarà come entrare in un centro benessere tutte le volte che farete il bagno. Quindi con le vasche Easy Life non solo avete la comodità di fare il bagno, indipendenti senza l'aiuto di nessuno, ma potete veramente godervi il massimo del relax. Vasche che sono un prodotto artigianale italiano, e lo dico con orgoglio, non arrivano da chissà dove. Sono il frutto di una lunga ricerca tecnologica e scientifica che ha valutato le richieste e le esigenze di tutte quelle persone in difficoltà in un momento intimo come quello del bagno. I nostri tecnici e successivamente i nostri artigiani sono riusciti a darci questo, un prodotto straordinario che vi regala una vita senza barriere, senza ostacoli. Era un problema veramente grande, la doccia non ci stava, altre soluzioni non c'erano. Ho sentito il nominale di Easy Life che produce vasche per disabili. Subito ho pensato questo è il sistema giusto. Ecco qua la vasca e la nonna adesso può essere autonoma, entrare e uscire da sola o sola che è accompagnata ma può star dentro tranquilla. E allora non aspettate e telefonate subito per prenotare la visita di un nostro consulente che senza impegno da parte vostra verrà direttamente a casa vostra per illustrarvi tutta la gamma delle vasche Easy Life. Chiamate con fiducia, i nostri incaricati in tutta Italia vi consiglieranno la migliore soluzione per le vostre esigenze e scoprirete quanto costa poco cambiare vita, cambiare abitudini perché oggi pagate la vostra nuova vasca con piccole e comode rate mensili. Con Easy Life grandi vantaggi piccole rate. In più ricordatevi che potete avere le nuove vasche Easy Life con idromassaggio, comodi, beati e rilassati. Cosa volete di più? Chiamate subito adesso. Con Easy Life finalmente potrete entrare e uscire dalla vostra vasca senza l'aiuto di nessuno. Abbiamo scelto la vasca Easy Life, siamo estremamente contente. La mamma può fare tranquillamente il bagno da sola ed io sono più tranquilla. Prima per farmi il bagno avevo per forza bisogno di aiuto. Adesso grazie a questa vasca della Easy Life riesco a fare tutto da solo. Ve lo assicuro, con la vasca Easy Life la vita cambia veramente. Chiamate adesso per avere informazioni sulle nostre eccezionali condizioni d'acquisto. Easy Life, le vasche per una nuova vita senza ostacoli.